Ciao a tutti, benvenuti nel canale, in questo video vi spiegherò come completare la sfida Fai il pieno di un veicolo a lago languido Una sfida molto semplice che ovviamente non va fatta in rissa squadre Perché in quella modalità non potete usare i veicoli Tutto quello che dovete fare praticamente è raggiungere lago languido E riempire un veicolo di carburante Quindi o utilizzate le stazioni di servizio o le taniche di benzina Ora non so se sono così fortunato da trovare le taniche fin da subito Altrimenti uso un distributore di benzina L'importante è farlo a lago languido Quindi se prendete un veicolo a lago languido e ve ne andate altrove non va bene La sfida è chiara e dice di rifornire un veicolo a lago languido Quindi probabilmente dovrò andare in cerca di una tanica di benzina Ora se provenite dalla precedente stagione sicuramente avrete utilizzato almeno una volta i veicoli Quindi sapete un po' come funziona Adesso atterriamo Prendiamo un veicolo e vediamo se c'è un distributore nei paraggi sempre a lago languido Oppure se devo andare in giro a cercare una tanica di benzina Anche se nella sfida precedente l'ho recuperata facilmente Quindi non era impossibile da trovare Vediamo un attimo se c'è qualcosa qui Infatti ecco c'è un bel distributore di benzina Quindi siamo fortunati Sono qui vedete Non potete sbagliarvi Prendete un qualsiasi veicolo È indifferente Wow c'è già Quindi interagite con la pompa E voilà Riempite il serbatoio O meglio Solo un po' di benzina Alla vostra vettura